Punteggio con 13.30 Di poco la migliore è l'olandese Torso Dittir con 13.633 Uno zucara teso, quindi doppio salto teso con l'aggiunta di un avvitamento Rondata flick, doppio teso stoppato, impiantato a terra, leggermente scomposta Comunque è una grande difficoltà Rondata flick, è un salto tabac, cioè un mezzo giro nella prima fase di volo E successivamente un doppio salto avanti raccolto, quindi con le gambe flesse Tre giri in accosciata, elemento estremamente difficile e complesso Questo un doppio giro E si prepara per l'ultima diagonale del suo esercizio Rondata flick, zucara raccolto Un po' imprecisa sull'arrivo Ha presentato tante difficoltà La Kaimova che dovrebbe risollevare le sorti della Russia a questo attrezzo